Una tavola rotonda dal titolo che è quasi una chimera in realtà, felice al lavoro come riuscirci e vi racconto questo particolare per prepararmi proprio a questa tavola rotonda, ho fatto un po' di ricerche e ho scoperto una parola giapponese interessante che riguarda proprio la felicità al lavoro, un termine che indica insomma che abbiamo fatto bingo per quanto riguarda il benessere lavorativo, ecco questa parola si chiama ikigai e diciamo è un termine che indica l'incontro tra ciò che ami, ciò che ti piace fare, ciò in cui sei bravo perché insomma non è detto che le due cose coincidano sempre e ciò che serve al mondo, quindi ciò per cui puoi essere anche effettivamente pagato. Io mi sono chiesta naturalmente per la mia attività lavorativa e ognuno faccia la propria riflessione, quanto sia distante questo ikigai, cioè quanto in realtà noi siamo riusciti nella nostra esperienza professionale a centrare l'obiettivo, a fare quello che ci piace, quello in cui siamo bravi ed essere anche retribuiti, pagati per questo. Non è semplice appunto da raggiungere, anche perché lo testimoniano i dati, non c'è questa soddisfazione all'interno del contesto lavorativo italiano e io mi rifaccio ecco ai dati dell'ultimo rapporto Censis-Eudaimon sull'alfara aziendale che ci dicono in realtà che la metà addirittura degli occupati italiani lascerebbe l'attuale posto di lavoro, insomma sono ben lontani dall'ikigai e le ragioni di questa scelta vanno ricercate in diversi fattori, la difficoltà del fare carriera, dello stipendio non aneguato e naturalmente anche la difficoltà di conciliare come avevamo detto prima, le aspirazioni professionali e la vita privata, quindi il tema del work-life balance. Ebbene ecco proprio da queste premesse e dall'analisi di questi dati noi partiremo per cercare di interrogarci al meglio su questo grande punto, cioè la felicità e il benessere sul posto di lavoro e lo faremo con gli ospiti di speaker della seconda tavola rotonda che io invito a raggiungermi qui sul palco, ovvero Simone Pizzoglio, Head of Finance and Utilities B.W.A. DOXA, Adriano Tartaglia, Direttore Risorse Umane Ferrarelle Società Benefit e Adriano Caponetto, People and Organizational Change Director di Renus Logistics. Buongiorno a tutti, un bel applauso per voi. Buongiorno, prego, prego, sedetevi pure. Ecco, allora io partirei in questa tavola rotonda diciamo da un quadro teorico che poi ci porterà a fare delle riflessioni dal punto di vista pratico invece su come gli effetti ricadono sulla vita delle aziende e dei lavoratori e io partirei proprio da Simone Pizzoglio e da DOXA che è la più importante azienda italiana di ricerche di mercato. Perché cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso di andare proprio sul campo, Simone, per vedere effettivamente questo benessere lavorativo, quanto è diffuso a livello del nostro sistema e lo abbiamo fatto sottoponendo a un campione di lavoratori dipendenti alcune domande, un questionario che riguarda clima aziendale, benessere lavorativo, il driver per cambiare lavoro e le aspettative sullo smart working, altro termine chiave che in questa mattinata non abbiamo ancora citato. Ebbene, io Simone le chiedo innanzitutto di illustrarci quali sono i risultati di questa ricerca. Benissimo, buongiorno a tutti, credo di avere bisogno del telecomando. Eccoci qua. Ok, grazie mille. Sì, credo sia interessante partire da qualche dato di percezione e di cosa pensano le persone. Sono temi molto trattati, sono temi che, come si dice in gergo, sono nell'agenda media direi da tempo e anche i dati sono legati a questi aspetti. Noi siamo andati, come dicevi giustamente, a chiedere a un campione di lavoratori distribuiti su tutto il territorio italiano e su tutte le fasce di età per poter capire cosa ne pensano rispetto a quanto sono soddisfatti del lavoro. È un'indagine svolta negli ultimi giorni di marzo e nei primi giorni di aprile per cui i dati sono effettivamente freschi. Una domanda secca, quindi di che cosa si è soddisfatti? Pensando al tuo lavoro, quanto si è soddisfatto di alcuni aspetti? Ecco, se guardate le barre più grigie e le sommate, i molto o più gli abbastanza soddisfatti, vedete anche solo senza andare a leggere tutti i dati, quanto attualmente è la componente relazionale che soddisfa di più i lavoratori. Le relazioni con i colleghi, il 21% molto soddisfatti, il 45% abbastanza soddisfatti. I contenuti del lavoro, il bilanciamento privato lavoro, tutto sommato, comunque è più della metà del campione è soddisfatto, per poi scendere. Vedete c'è proprio un salto, si scende poi sulla retribuzione sui benefitti economici, io amo parlare di total compensation, la retribuzione o la RAL sembra un concetto un po' limitato, però soddisfa solo meno del 40% del campione. Lo stress anche qui sembra essere particolarmente alto e le opportunità di carriera che soddisfano solo un quarto del campione e non soddisfano invece una componente importante, il 19% dice addirittura che non è per niente soddisfatto delle opportunità di carriera. Quindi sembra che i lavoratori siano soddisfatti di quello che fanno, dei colleghi, dell'ambiente e delle relazioni che si possono costruire, ma gli aspetti più hard sono attualmente criticati. Sulla retribuzione direi che non è particolarmente strano, non si è mai contenti della propria retribuzione, però ci sono anche dati credo che permettano poi di fare una confronto. Ecco Simone, scusami, intervengo su questo punto perché non è ovviamente solo una questione di insoddisfazione, no? È proprio un dato italiano, l'abbiamo confrontato con la media europea, se vediamo, esatto, la retribuzione in altri paesi, parliamo insomma di Germania, paesi scandinavi, la media proprio di quello che percepiamo in Italia è estremamente inferiore, questo ovviamente incide. Il tema è sicuramente presente, il tema anche a livello poi, fatemi fare il sociologo della DOXA, quindi il tema dei working poor non è un tema che non esiste in Italia, è anche il tema di garantirsi, anche se non sia dei working poor comunque, l'accesso a una qualità della vita e anche tenendo conto dell'attuale costo della vita è sicuramente un tema aperto che deve essere messo sul tavolo in qualche modo, probabilmente non con una visione unica ma anche per le imprese che poi hanno un tema, come sappiamo bene, di fiscalità che non consente sempre di fare scelte che in realtà le aziende probabilmente vorrebbero fare perché io sono abbastanza convinto e parlo anche per la mia azienda, per noi è un problema il turnover, le persone che vanno via, anzi, quindi questo è un punto aperto. Ma è interessante pensare al tema della soddisfazione, si parla sempre molto di generazioni, è un tema molto caro perché questo è un periodo storico in cui noi troviamo generazioni, generazioni, tante generazioni contemporaneamente al lavoro, è una cosa nuova, non è mai successo proprio nella storia dell'uomo perché le aspettative di vita erano brevi e quindi non è mai successo di avere ventenni e sessantenni, in qualche caso settantenni al lavoro, quindi ci sono delle differenze, beh in realtà non tantissime, se guardate questa tavola che mette a confronto le opinioni mettendo insieme, gli abbastanza soddisfatto tra le tre fasce di età, diciamo i millennial, non abbiamo la generazione Z ancora, abbiamo la generazione X e i boomers, vedete che al di là di qualche punto percentuale non ci sono enormi difficoltà, sicuramente ci sono in particolare solo sul bilanciamento del privato e del lavoro dove le persone più mature hanno un livello di soddisfazione un po' più alto, anche questo devo dire bene, come vedete più si va verso le ultime fasi del lavoro. Ok, andiamo su un altro dato, andiamo a vedere un altro dato che quali sono i fattori che contano di più nel benessere lavorativo. La retribuzione c'è, punto, io credo che sia un dato abbastanza scontato che la retribuzione sia al primo posto, però vedete anche che non abbiamo dei dati, questa è una domanda come si dice in gergo multipla, quindi tutti potevano indicare quante risposte volevano e se fate caso a questi dati vedete che non abbiamo una polarizzazione, non abbiamo due dati che sono al 70% e poi gli altri dati al 10%, tutti quanti distribuiscono le loro valutazioni su il clima positivo, l'equilibrio tra impegni privati e lavoro, la sicurezza del posto di lavoro, ci muoviamo su delle percentuali che distribuiscono in modo piuttosto omogeneo, quindi un po' come se le persone, come diceva Nicolo Spagnuolo, hanno delle individualità, quindi ognuno costruisce un po' il proprio benessere sulla base delle proprie esigenze con delle combinazioni, con delle combinazioni di valutazioni che tengono conto un pochino di tutto. Certamente la retribuzione è al primo posto, ma questo, lasciatemi dire, lo è sempre, ma tutti gli altri dati si costruiscono, sono citati, un po' meno sulla parte dell'organizzazione aziendale e vedete che anche qui ritorna un pochino il tema delle opportunità di crescita e di sviluppo è forse uno dei dati un pochino più bassi. Tuttavia questa omogeneità da ricercatore mi è saltata agli occhi, credo che sia un punto di discussione. Abbiamo anche detto nel panel precedente che si cerca di cambiare lavoro, quindi c'è un'attenzione e una spinta a cambiare. Perché si cambia? Sicuramente si cambia per gli aspetti economici, ma si cambia anche per quello che non si trova e quello di cui si è meno soddisfatti, quindi le opportunità di crescita. Lasciatemi dire incredibilmente per me la distanza a casa lavoro. Infatti è una voce questa che un sorriso ce lo straffa. Certo, questo però è un tema del non dover fare troppa strada per raggiungere la sede di lavoro. Infatti subito dopo arriva l'opportunità del lavorare in smart working. Forse i due fattori sono un po' collegati. È un tema tutto italiano, tuttavia emerge la flessibilità del lavoro e una posizione lavorativa allineata alle mie passioni o ai miei interessi. Questo anche è un dato, credo, che porti a qualche considerazione. Questo porta, come dicevi, giustamente ci collega al tema dello smart working. Lo smart working nel campione che abbiamo trovato, che abbiamo intervistato, abbiamo una quota di smart worker che è del 36%. Non saprei dirvi se è alta o se è bassa in assoluto. Sicuramente si è ridotta rispetto agli anni precedenti. È interessante vedere come abbiamo comunque una quota prevalente di persone che applicano lo smart working nel modo che però io credo anche sia quello più diffuso fino al 50% del proprio tempo. Per esempio dove in Dox abbiamo un accordo di secondo livello per dieci giorni al mese. L'abbiamo consolidato, l'avevamo fatto dalla fine, diciamo, del lockdown e lo abbiamo consolidato e noi di questo siamo particolarmente soddisfatti, devo dire. La percentuale della quota di lavoratori che ha il 100% del tempo, direi, è ancora totalmente residuale, 5%. Ma lo smart working soddisfa oppure no? Sì, soddisfa. Vorrei lavorare maggiormente in smart working? In realtà il 35% lo indica, quindi non abbiamo una spinta enorme sull'idea di volersi, diciamo, di volere aumentare questa cosa. Anche perché, come possiamo vedere dall'ultima tavola, le aspettative dello smart working, non è la penultima tavola, scusate, le aspettative dello smart working hanno portato e continueranno a portare sicuramente per moltissimi un maggiore equilibrio tra impegni privati e lavoro, anche una maggiore organizzazione del lavoro, ma rimane un pochino il punto aperto anche tra i lavoratori su come si possa crescere e su come si possa crescere con le proprie competenze in smart working e non in un contesto lavorativo. Senza la possibilità di confronto, magari con i colleghi, perché io ho letto un articolo, mi è piaciuto moltissimo il titolo, dice l'importanza della pausa caffè. Si intitolava così, ecco, questa riflessione dove si diceva che proprio lo scambio, magari anche non in un momento prettamente lavorativo, ma in un momento di pausa, poteva indescare quello scambio di idee che favorisce l'innovazione, la comunicazione e quindi anche lo sviluppo. E certamente, ecco, bisogna riflettere se lo smart working aumenta o meno questa capacità lavorativa e la possibilità anche di progresso. Anche alla luce del fatto che prima abbiamo visto che le persone sono contente soprattutto delle relazioni che costruiscono il lavoro. In smart è sicuramente più difficile. C'è da dire che anche qui si conferma un trend che le persone più giovani che si aspettano lo smart working però hanno anche una maggiore voglia e anche un maggiore bisogno, secondo me, di passare tempo nei contesti organizzativi per apprendere. Questo è sicuramente un tema importante. Non vorrei sembrare troppo scientifico, ma il tema delle cellule specchio, dell'apprendimento delle cellule specchio è un tema biologico assolutamente confermato dalla scienza. Quindi si impara anche stando vicini e imitando inconsapevolmente i comportamenti organizzativi. C'è poi, secondo me, un punto che è quello della cultura organizzativa, dei valori aziendali, di quello che è la cultura di quel brand, di quell'azienda che bisogna interrogarsi come si fa a sviluppare in un contesto di totale smart working senza mai avere delle relazioni o facendole solo con un contesto, diciamo, digitale o a distanza. Bene, chiudo con questa tavola, che è quella dopo, su rientro in ufficio, sento la necessità di andare in ufficio per relazionarmi con i miei colleghi tra gli smart worker, vedete che siamo a metà del campione, quindi metà del campione il 13% si dice molto d'accordo, il 36% abbastanza d'accordo con il fatto di aver bisogno di andare in ufficio e c'è anche, anche se non è, diciamo, un po' più marginale, c'è anche una persona su quattro che dice che tornare in ufficio è difficile concentrarsi, è difficile fare il lavoro. Forse fanno troppe pause caffè, non lo so, però comunque... Riduciamo le pause caffè, no. Bene, scusate, sono andato un po' lungo forse, però credo che i dati possano portare e aiutare anche la discussione del panel, grazie. Assolutamente, io naturalmente la ringrazio Simone per il contributo di Doxa, sono dati interessanti che da un lato sì, hanno un po' confermato quello che sapevamo, dall'altro invece hanno messo sul piatto degli argomenti anche inaspettati, proprio quello relativo allo smart working, personalmente credevo che la percentuale fosse più larga, più ampia di persone che volessero incrementare i giorni di smart working, anche perché lo vedremo poi nell'ultima tavola rotonda, c'è questo grande dibattito che si è scatenato a partire dalla scelta degli imprenditori americani di far tornare tutti in presenza, ecco quello che ritenevamo ormai un dato di fatto, la possibilità di lavorare da remoto in questo new normal è stata rimessa in discussione, ma lo vedremo anche perché appunto lo smart working è solo un aspetto del grande contenitore del benessere organizzativo che cerchiamo di analizzare in questa tavola rotonda e io qui naturalmente adesso faccio intervenire Adriano Tartaglia e Adriano Caponetto, partendo dal dottor Tartaglia abbiamo detto il benessere organizzativo in azienda, non solo in azienda, in un gruppo di grandi dimensioni come Ferrarelle che contiene appunto delle realtà, delle peculiarità tra diversi laboratori e anche diverse, come si fa a valorizzare la singola persona in un contesto così ampio? Sì, buongiorno a tutti, grazie per aver pensato a me per questo intervento. Allora parlando della felicità o del benessere mi veniva in mente poc'anzi il concetto di diciamo equilibrio dinamico, ecco la felicità secondo me attiene a questo, è un equilibrio che pensiamo a ciò che i mondi felici stabili di qualche anno fa, che adesso sono totalmente cambiati e nel concetto di dinamica perché c'è una attività da compiere per arrivare alla felicità. prestare attenzione dal nostro punto di vista, almeno in Ferrarelle, è la base di questa attenzione verso la costruzione di un mondo felice, noi dobbiamo secondo noi prestare attenzione al singolo, prestare attenzione ai segnali che ci provengono dall'organizzazione. in questo senso credo che l'ascolto, l'ascolto attivo, forse il feeling inglese, il sentire è la prima leva per cogliere segnali e prestare attenzione. In modo molto pratico noi lo facciamo all'interno dell'organizzazione avendo costruito alcuni processi anche abbastanza stabili. Mi viene in mente quella che noi chiamiamo engagement survey, che è una survey che lanciamo una volta all'anno nella sua versione completa, ma durante l'anno replichiamo con delle quick survey anche più diciamo concentrate nella loro essenza e grazie alla quale andiamo a chiedere a tutti i nostri collaboratori qual è il loro percepito verso elementi fondamentali e fondanti la felicità. Per esempio l'equità, la meritocrazia ne abbiamo citati tanti, il rapporto con il capo, la libertà di espressione, la sicurezza psicologica. Ecco, come un termometro andiamo quindi a misurare la temperatura dinamica perché lo facciamo diverse volte all'anno, ciò che può essere vero un anno prima non per forza deve essere stabile, ovvero l'anno dopo. La survey mantiene, almeno per la nostra esperienza, un nucleo solido di costrutti percettivi che crediamo attengano al nucleo della felicità e poi una serie di domande, quindi costrutti psicologici che di anno in anno andiamo a cambiare perché semmai attengono quel singolo contesto storico o periodo storico, per esempio la domanda, la percezione sul lavoro agile. Ecco, a valle di questo lavoro, quindi misuriamo le temperature, poi ogni anno noi ci incontriamo cerchiamo di farlo in presenza, negli ultimi tre anni ne abbiamo saltata una, ma ci incontriamo tutti insieme in un luogo fisico, quindi ci abbracciamo e ci chiediamo rispetto ai risultati che noi stessi ci restituiamo tramite la survey, quali sono le attività, i progetti, i desiderata dei collaboratori rispetto alla felicità. Quindi ne nascono, alla propria soddisfazione, ne nascono delle attività, dei progetti molto concreti di cambiamento. Ecco, questa è un'attività che credo molto importante, ripeto perché parte dall'ascolto e dal sentire di tutti i collaboratori e l'ottica è quella della co-creation, quindi del costruire insieme. Prima si parlava di carriere, noi per esempio teniamo tanto alle aspirazioni e alle visioni future del proprio divenire come professionista all'interno dell'organizzazione. In questo ambito, per esempio, nel nostro abbiamo costruito un sistema di sviluppo del personale all'interno del performance management, facciamo due cose sostanzialmente. Chiediamo alle persone quali sono le proprie aspirazioni professionali e come l'organizzazione secondo loro può rispondere a queste esigenze personali. Chiaramente non tutte le esigenze si risolvono in piani di crescita o di carriera verticale, ma questa espressione sposta alla responsabilità del proprio costruire l'esperienza felice nell'azienda verso la persona. Quindi noi ci sentiamo un po' obbligati, ma rispetto a noi stessi, a crearci, ipotizzare un futuro, immaginare un futuro, ma con azioni concrete, quindi attività, progetti, attività molto pratiche e lavorative. Ecco, questi sono esempi di come noi cerchiamo di costruirci insieme a un mondo felice. L'ultimo progetto che abbiamo lanciato è un progetto di sviluppo di quelle che noi chiamiamo coaching skills, partiamo sempre dall'ascolto e quindi cerchiamo di sviluppare le nostre abilità appunto nell'ascolto, nella relazione, relazionali, nel dialogo, nel sentire l'altro, nel dare feedback e quindi attraverso il linguaggio costruirci insieme a una realtà e un mondo migliore. Si concretizza praticamente nel fatto che ognuno di noi, insieme ai propri responsabili, ai propri gruppi di lavoro, costruisce una visione medio termine della carriera professionale. Quindi insomma ritorna la centralità dell'ascolto e della comunicazione come base poi per costruire il benessere lavorativo. Ecco, io riparto dallo spunto che ci ha fornito il dottor Tartaglia per ampliare ulteriormente il discorso con il dottor Caponetto. Tra l'altro, ecco, durante la presentazione di Simone Pizzolo ci siamo scambiati un sorriso complice perché una delle slide proprio riguardava, ma il dottor Caponetto non lo sapeva, un elemento di riflessione che abbiamo affrontato nella nostra discussione preliminare per la preparazione della tavola rotonda, cioè la compresenza all'interno della stessa azienda di lavoratori di età diverse, dai boomer ai millennials alla generazione Z, anche la difficoltà di venire incontro alle esigenze appunto di persone che appartengono a generazioni che hanno un background culturale, delle esigenze completamente diverse. Ecco, magari ripartiamo da qua. Come si fa ad accontentare tutti? Innanzitutto grazie. Mi aveva spoilerato però, eh? Spoilerato, sapeva, per cui mi aveva dato già qualche input. Diciamo così che non ci si riesce. Partiamo da questo paradigma, come ne riuscire a rendere felici i propri dipendenti? Perché questo è il punto di partenza, perché altrimenti se noi immaginiamo di enunciare che rendiamo felici i nostri dipendenti, tutte le organizzazioni, adesso sui social, no? Ogni giorno c'è chi ne possa una più di un'altra. Tutte le organizzazioni sono felici, tutti sono perfetti e tutti tendono all'eccellenza. Io voglio citare Nathan Four che dice l'unica certezza che abbiamo in questo momento è l'incertezza. Lui è un ricercatore, per cui voglio dire è abbastanza acclarato, per cui io parto da questo ossimoro, no? L'unica certezza è l'incertezza. Come renderli felici? Diciamo così che welfare non è una cosa che abbiamo inventato noi. Parliamo già da Carlo di Francia nel Settecento, lo stato sociale, lo stato del benessere nel dopoguerra, per cui il welfare ci ha accompagnato rispetto a tutte le trasformazioni socio, politico e economiche, nelle sue varie definizioni. A me piace invece fare un passo in più, oppure provare a fare un passo in più, no? Nell'eccezione che dicevo noi non rendiamo felici le nostre persone. Partiamo da questo assunto. E su questo su cui dobbiamo lavorare. Non come renderli felici, ma come fare in modo di non renderli felici. Diceva Simone Pocanzi, e io condivido molto, i soldi sono un elemento di insoddisfazione, ma non sono un elemento motivazionale all'interno dell'organizzazione. questo ormai è acclarato, lo ha confermato, per cui quando ci troviamo a parlare del Vildanaro che supporta l'esistenza di ognuno di noi, dobbiamo partire da questo assunto nell'ambito delle organizzazioni. A me piace parlare invece di well-being, no? Well-being che è null'altro che, questa è la mia definizione, che provo a dare la strategia di responsabilità sociale di un'organizzazione. Dico questo perché il nostro contesto aziendale è un contesto che ha una presenza molto capillare, per cui noi sui territori abbiamo anche una responsabilità sociale nei confronti della comunità aziendale e della comunità in cui noi operiamo. Se ci collochiamo in questo contesto risulta sempre più semplice andare a comprendere e capire quale possono essere le varie necessità. Il welfare è uno strumento, tant'è che viene legiferato ogni tanto qualche classe politica, qualche governo interviene nel legiferare. Meglio o peggio, no? Il Tuir interviene, articolo 51, articolo 100, ma noi ci stiamo focalizzando troppo sul concetto di welfare, che è lo strumento e stiamo ponendo l'attenzione rispetto a quello che è il contesto organizzativo. Ritorno sul contesto organizzativo, forse nel talk precedente qualcuno ha menzionato gli aspetti organizzativi. Io vorrei rientrare nell'ambito del concetto di cultura organizzativa, concetto di benessere organizzativo. Riprendo un po' le parole che diceva, caso di omonimia Adriano, noi per lo più quando parliamo di welfare invitiamo i nostri dipendenti a una festa. Se facessimo quel salto culturale, anziché invitarli ad una festa, li invitiamo a ballare. Scusate questo gioco di parole o questa metafora, per cui essere non soltanto delle persone che sono invitate e esprimono la loro opinione, ma devono essere delle persone proprio per effetto del concetto delle varie generazioni culturali che abbiamo nei contesti organizzativi. Ecco, allora lì iniziamo a lavorare sul contesto di benessere organizzativo. Il welfare è uno strumento, voglio dire, caregiver, piuttosto che buoni passo. Ogni tanto il legislatore ci dà degli strumenti in più, degli elementi in più, per carità, ma se adesso gli associamo quelli che possono essere altri aspetti. Vi faccio un esempio banalissimo. Iniziare a immaginare, parlo del mio contesto, della mia società, della mia organizzazione, perché le organizzazioni sono uniche, le aziende anche nei vari comparti hanno la loro unicità che è la loro company culture, banalmente. Immaginiamo dei percorsi di learning path per i baby boomer. Io lo faccio rientrare nell'ambito di un contesto di well-being organizzativo, non nell'ambito di un contesto di formazione. Io differenzio sempre quello che è training, formazione, ti insegno quello che tu non sai rispetto a quello che è learning. Ti metto nelle condizioni di sviluppare le tue capability affinché tu possa dare un tuo contributo all'organizzazione e l'organizzazione è bidirezionale, ti restituisce quel senso di benessere e di non frustrazione che tu hai nei confronti di un'organizzazione che sta andando verso una cultura molto spinta, da un punto di vista digitale e non solo, per cui anche prestare attenzione non soltanto dei giovani, perché noi parliamo sempre dei giovani, che è correttissimo, ma come li riusciamo a integrare? Quindi questo è un esempio, mettere nelle condizioni le generazioni che devono essere mentor e tutor della generazione Zed, nelle condizioni di essere a proprio agio in un contesto, immaginate voi in un meeting, una nuova tecnologia, se io non metto nelle condizioni il cinquantenne, sessantenne, di essere al posto giusto, io creo un senso di frustrazione, il concetto dello stress che citava poc'anzi Simone. Ecco, per me il benessere organizzativo non è soltanto un'iniziativa di welfare, è un qualcosa in più, è un contesto che deve trainare l'organizzazione rispetto a un proprio equilibrio, a un trade-off che mette insieme, al di là delle esigenze socio-economiche, ma che mette insieme una comunità affinché possa progredire da un punto di vista socio-economico. È molto interessante col suo discorso anche la provocazione iniziale, no? Non riusciamo, non si può rendere felici tutti. E anche con la sua riflessione, dottor Capponetto, sul fatto di non tanto instillare la felicità, ma di ridurre il senso di insoddisfazione, ribaltando un po' il ragionamento. E io vi chiedo, chiedo a lei e chiedo al dottor Tartaglia proprio rispetto all'insoddisfazione. Quando un lavoratore arriva da voi e esprime dei dubbi, delle perplessità, un senso di insoddisfazione rispetto al proprio ruolo, al proprio contesto in azienda, come rispondete e qual è da direttori proprio delle risorse umane la sfida più difficile che vi ritrovate ad affrontare ogni giorno sul posto di lavoro? Prima il dottor Tartaglia e poi il dottor Capponetto. Eccomi. La domanda è complessa. Allora, distinguerei una cornice dall'attività quotidiana. diciamo che HR non crea. HR ha la responsabilità di accendere un faro sulle condizioni lavorative di un'azienda, all'interno di una cultura aziendale, di porre l'accento al benessere dei dipendenti. Quindi insieme ai colleghi si cerca di costruire un ambiente che offra stimoli, che possano rendere felici le persone. Questa è la nostra responsabilità perché la people side del lavoro insomma noi dovremmo avere una sensibilità molto elevata alla parte people dell'organizzazione. Poi può accadere che tutti i giorni viviamo delle insoddisfazioni, ma le viviamo anche noi, per primi, non solo i nostri colleghi. Allora, lì devi percepire, dal mio avviso, per superare le difficoltà, le frustrazioni, le angosce che viviamo tutti, devi percepire un ambiente accogliente, un ambiente all'interno del quale tu sai che quelli che sono, diciamo, emozioni si possano risolvere positivamente e dove tu puoi avere l'idea di cambiare col tuo lavoro e coi tuoi sforzi la tua condizione lavorativa. Parliamo di ambienti sicuri, ambienti in cui le persone possono esprimersi, puoi esprimere le proprie opinioni in maniera trasparente, sicura, che dal mio punto di vista è una variabile molto importante dei posti di lavoro, e in ambienti in cui il dipendente, il collega, chiunque ha la percezione che grazie al proprio lavoro le cose possono cambiare. Questo è ciò che fa la differenza e allora si guarda al proprio insuccesso, alla propria insoddisfazione, allo stato d'animo complesso di alcuni momenti con una prospettiva futura, una prospettiva di miglioramento, di cambiamento, di crescita e quindi una visione positiva. La cornice, l'azienda deve offrire questa cornice e questo campo all'interno del quale è possibile esprimersi in questo senso. Dottor Capponetto, a lei l'ultima parola, un po' il punto esclamativo sulla tavola rotonda, come si risponde all'insoddisfazione. Lowell diceva solo i morti e gli stupidi non cambiano idea, per cui noi i char abbiamo un compito in grado, peraltro noi i char non abbiamo gli i char con cui possiamo andare a parlare, banalmente, siamo noi, ce la cantiamo, ce la vivono di procedure, vivono di status, lo possiamo anche dire perché non dovremmo essere ipocriti. L'insoddisfazione è un sentimento e rispetto a quello che dicevo prima, il sentimento va ascoltato, va guidato e va seguito. Faccio un esempio su delle cose che noi facciamo. Soprattutto sui percorsi di inserimento. La risorsa già sa, nel momento in cui entra in contatto con noi, qual è il suo percorso. Per cui il tema del lavorare sull'insoddisfazione bisogna intervenire alla fonte. Al di là del contesto organizzativo delle persone che lavorano in azienda da X anni, eccetera, eccetera, ma soprattutto sulle nuove generazioni. uno dei loro maggiori interessi è cosa farò tra cinque anni, cosa mi farete fare, qual è il mio percorso. Non so se è emerso nella ricerca che è stata fatta da Doxa, ma sono molto più attivi, faccio un esempio sul concetto di welfare, sono molto più attivi sul loro sostentamento, supporto pensionistico e assistenza pensionistica, assistenza integrativa, pensione integrativa rispetto ai baby boomer. Pertanto, quando parliamo di insoddisfazione, noi già definiamo in una fase di inserimento in azienda, qual è il loro percorso. Prima contrattuale, per cui stage o quel che l'è, e anche percorso di carriera. Cioè, già rispetto ai neolaureati, qual è il loro percorso di carriera? È chiaro che sono delle linee guida, non è definito l'importo se diventerai chief HR o chief information technology officer, eccetera, eccetera, ma la cosa è più importante ed è essere chiari. Le nostre persone, l'organizzazione chiede a noi e c'è chiarezza. Quindi l'insoddisfazione va smontata rispetto a messaggi chiari di percorsi ben definiti, di carriera, economici, di processi di job rotation, piuttosto che di finte promesse. Per cui, come intervengo io, come interviene la nostra organizzazione, con delle definizioni chiare, un glossario chiario, è ritorno su un tema, su una company culture chiara. Quindi la nostra struttura, la nostra organizzazione, soprattutto i giovani, insisto su questo tema, è ci stanno chiedendo chiarezza, che poi può essere tradotta anche in quello che diceva Adriano Pocanzi, in sicurezza. Cosa faccio domani? Ma questo non lo chiedono solo i giovani, eh? Anche i baby boomer. Cosa andrò a fare domani nell'ambito del mio piano di successione. No, no, è chiarissimo. Mi sembra, ecco, aggiungo una mia riflessione proprio dalle vostre parole, sicurezza, chiarezza, ma tutto questo implica anche una prospettiva verso il futuro. Cioè, l'essere chiaro su quello che andrò a fare implica rivolgere lo sguardo appunto a tra un anno, tra due anni, tra cinque anni. Ed è questo però che manca in questo momento, no? Nel contesto lavorativo italiano. Questo sguardo verso il futuro, questa sicurezza, questa chiarezza su quello che verrà in un contesto che invece è estremamente variabile, incerto. Quindi voi HR dovete affrontare anche questo tipo di difficoltà. Prego, tutti e due. Sì, il tema del coinvolgimento e della comunicazione è fondamentale ancor più in un periodo variabile come questo. Praticamente noi abbiamo intensificato, per mitigare l'effetto, diciamo, del mondo sociale-economico che è così variabile e critico, abbiamo intensificato i momenti, per esempio, di incontro, anche fisici. Ecco, un po' in controtendenza. Incontri di partecipazione, perché da un lato, per esempio, nei nostri meeting mensili, i managers raccontano gli andamenti aziendali in modo molto preciso, i progetti anche strategici, l'indirizzo dell'azienda che si è costruito insieme, chiaramente. Ma lasciamo degli spazi aperti, quindi proprio di dialogo interattivo, un po' come si fa tra i gruppi, dove tutti i colleghi possono rivolgere delle domande, aprire quesiti e aprire nuove riunioni o nuove discussioni. Io vengo da contesti dove la strategia spesso era un tabù, umamma, l'investimento non si può raccontare, chissà i sindacati ne approfittano, la paura dell'essere a volte sinceri. Da qualche anno nella nostra azienda siamo entrati in un modello molto trasparente e la verità ha una grande forza, la forza dell'essere, l'onestà, la verità, oltre a costruire fiducia, crea anche quell'ambiente sicuro all'interno del quale le persone si sentono di appartenere e di dare un proprio contributo. Costruiamo ancora, adesso organizziamo management meeting, sales meeting e team building in presenza dove andiamo a collaborare per creare nuovi progetti, nuove attività e nuovi processi. Molti processi HR sono nati da esigenze bottom up che abbiamo rilevato all'interno dei gruppi. Dottor Caponetto, un'ultima riflessione, quindi la comunicazione diventa la base fondamentale con una comunicazione trasparente e sincera per dire che quale futuro ci aspetta anche in un contesto, come abbiamo detto, di estrema incertezza? La grande sfida è come preparare l'organizzazione a quella certezza che è l'incertezza. Per cui la grande sfida è lavorare sul contesto organizzativo al di là di lavorare sulla singola persona, sulle sue gap, sulle sue necessità formative, su tutto quel processo di reskilling che vede impegnate tantissime organizzazioni nel nostro paese perché ne abbiamo veramente molto da fare rispetto a un contesto europeo e asiatico. Non cito gli americani perché credo che molte cose partono da lì e poi arrivano nel vecchio continente, ma credo che noi dobbiamo lavorare sull'organizzazione per tenerla... Un bravo capitano si vede quando è al timone con il mare in tempesta, non quando la barca è in rada. Per cui noi dobbiamo preparare la struttura, la nostra organizzazione, le nostre persone che sono a bordo di un vascello nel momento in cui arriva la tempesta, proprio nei momenti in cui un'azienda fa grandi profitti che deve investire, deve pensare, deve riorganizzarsi. Bisogna lavorare molto sull'organizzazione. A me piace, ogni tanto uso questa metafora quando parlo con i miei colleghi, si parla nei manager meeting eccetera, andiamo a dare uno sguardo ai KPI, e dico sì scusami, stai parlando del keep people involved, per caso? Per cui iniziamo a immaginare, per tornare a quello che diceva sulla comunicazione, di coinvolgere di più le nostre persone e di non soffermarci sempre solitamente e unicamente al numero, perché io do una lettura dell'acronimo KPI, mantieni le tue persone coinvolte. Se parlo con l'amministratore delegato, col CFO, dice no, non c'entra niente. Noi che siamo un'azienda di servizi, fatturiamo e guadagniamo sul lavoro delle persone. E quindi ci siamo dimenticati un pezzo, il nostro vero valore non è il prodotto, il nostro vero valore sono quelle cose che fanno le persone quotidianamente, per cui soprattutto chi opera in questo settore che non ha prodotto, deve ricordarsi il concetto, la differenza tra mantieni le persone coinvolte e KPI, KPI, Performance Indicators. Dobbiamo riscrivere il vocabolario a questo punto. Ci proviamo, noi non inventiamo niente perché non siamo ingegneri, non siamo progettisti, non siamo ricercatori, dovremmo provare a innovare seriamente, non soltanto facendo brand washing eccetera. Benissimo, io ringrazio veramente i miei speaker per le loro riflessioni di questa tavola rotonda felice al lavoro, come riuscirci. Innanzitutto Simone Pizzoglio, Head of Finance and Utilities BV ad OXA per la ricerca che avete condiviso con voi, Adriano Tartaglia, Direttore di Risorse Umane, Ferrarelle e Società Benefit e Adriano Caponetto, People and Organizational Change Director di Renos Logistics. Grazie mille, a tutti voi. Grazie.